Quinta corsa, premio attestato, una reclamare per gli anziani affidati agli allievi, sono 14 al via, nonostante i ritiri del numero 7, Serpico Trebbe del numero 16, University Fox, sei dunque in prima fila che sono Taleggio Lung, Samontiore S.M., Tiburon, Vincente Rod, Attila e Zattera Jet. Sono in 7 in seconda fila, Ultimatrix, Antigua Jet, Tudor, Danny Griffo, Lui e LZ, Tonight Lux, Via Colvento Toro e Always Go, sono in 2 in terza fila, Antilla, scusate, è da sola in terza fila, scusate, Antilla Pit. In 4, quasi su di una linea, lo stacco della macchina, con Taleggio Lung lungo la corda che rientra a Tiburon, ma più in fuori sono veloci, Attila con... all'esterno Zattera Jet che insiste, i due in lotta, con Attila che difende la posizione, Taleggio Lung che tiene il contatto per non dare spazio a Zattera Jet. Poi ancora l'avanzata in terza ruota da parte di Always Go, Attila leader, Zattera Jet costretta a largo, terza ruota di Always Go, Taleggio Lung alla corda con vicino Tonight Lux. Poi ancora Samontiore SM che è in fuori via col vento Toro e tutti gli altri disposti a pariglie, con il favorito Attila che completa i 600 iniziali in 45 e 3. Avendo sempre all'esterno Zattera Jet cerca di aggirare la World West Go, ma non ci riesce, secondo in corda è Taleggio Lung davanti a Samontiore SM. Con Attila che ora ha potuto rifiatare, giunge a metà gara in 1.2, sul piede dell'1.17.5, comanda Attila su Taleggio Lung, si sono arresi all'esterno, prima Always Go e ora anche Zattera Jet, allora muove in terza ruota Tonight Lux, lungo la corda c'è sempre Samontiore SM, a precedere Tudor Danny Griff, cerca di progredire all'esterno anche il numero 13 di via col vento Toro, Attila che si mantiene in vantaggio. In seguito a Tonight Lux, al cui interno è Vitale Taleggio Lung, la quarta posizione la guadagna via col vento Toro, scavalcando Samontiore SM. Poi ancora Tudor Danny Griff, la retta d'arrivo, vede Attila in vantaggio, in allungo, nei confronti di Taleggio Lung. Tonight Lux che deve ripiegare terzo, ma deve subire il contemporaneo attacco di via col vento Toro e di Tudor Danny Griff. Attila che allunga da Taleggio Lung, è stanco Tonight Lux, Attila in vantaggio su Taleggio Lung, poi Tonight Lux attaccato da, sempre da via col vento Toro. Sul palo è netto Attila, mentre finisce molto forte via col vento Toro che appariglia completamente Taleggio Lung per il posto d'onore. Da un capo all'altro il favorito Attila, numero 5, nei confronti di probabilmente via col vento Toro che sul palo potrebbe aver stampato Taleggio Lung per il posto d'onore. Aspettiamo le immagini del replay. Il 5 al primo posto, Salvatore Legittimo alla guida, poi era una prova lieve, poi Taleggio Lung che ha seguito dal via il vincitore. Intanto sul mio cronometro 2-1-6, media di 1-16 per il vincitore Attila. Nei confronti rivediamo il finale con via col vento Toro che avanza a probabilmente battere di misura Taleggio Lung per il secondo con Tonight Lux al quarto davanti a Tudor Danny Griff. E quindi dovrebbe essere 5-13-1 l'arrivo ufficioso della quinta di Capannella, lì nello studio. Grazie a tutti.